In primo piano i risultati dell'esame di maturità, un anno straordinario nel quale però spicca il record negativo del liceo Alessandro Manzoni, la peggior scuola d'Italia. Il 50% di promosse alla maturità o il Manzoni chiude? Come chiude? Scrivete il vostro nome. Avete un'ora di tempo. Ma non abbiamo due ore oggi? Scrivete anche il cognome. Papri! Un grande desiderio di combattere! Vediamo a che punto è la vostra preparazione. Pronti? Via! Non importa se studiamo o se ci diplomiamo. È per colpa di gente come loro se le cose stanno così. Loro ci hanno provato. La scuola in cui credo è quella che ti fa vivere ogni lezione con il corpo, la mente, lo spirito. Quando ripenserete a questi anni saranno stati più belli della vostra vita. Professori perfetti non esistono. Ma poi esistono anche professori che nonostante tutto ci credono ancora. Ho capito bene. Puoi rubare le prove scritte dell'esame di maturità? Esatto. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog. blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!